Una poltrona per due, una serata di beneficenza dedicata, rivolta agli anziani ospiti delle residenze della città bianca, una serata organizzata dai Lions New Century, host di Ostuni, in collaborazione con l'assessorato ai servizi sociali. E con l'assessore Mirella Dattoma, una iniziativa che lei, assessore, ha subito accolto con grande entusiasmo. Assolutamente sì, un grande entusiasmo perché parlare di anziani, parlare di malattie dell'età anziana, parlare di Alzheimer, riteniamo che sia una cosa molto importante perché è una patologia molto, molto diffusa e parlare significa poterla prevenire. Prevenire attraverso diverse maniere, ma soprattutto attraverso l'aiuto che si può dare a queste persone nello stimolare la loro memoria, il loro interesse, il loro entusiasmo. Perché questa malattia, così come se ne è parlato la settimana scorsa al Castello Dentice di Frasso, sempre un evento organizzato dai Lions, è una patologia che colpisce un numero altissimo di persone. Ma in qualche modo si può prevenire, si può prevenire come? Si può prevenire attraverso lo stimolo a nuovi interessi, lo stimolo a pensare, a ragionare, a ricordare perché la memoria è proprio la parte che viene più danneggiata da questa patologia. Questa sera una serata di grande successo, la proiezione di un film, una serata di beneficenza, lo scopo. Avvicinarsi e fare servizio nei confronti di persone anziane, persone che normalmente vengono poco considerate, tutti spesso si interessano dei giovani, di chi deve entrare nel mondo del lavoro, però gli anziani spesso stanno soli, stanno nelle case di riposo e il Lions che si occupa di servizio a 360 gradi deve essere vicino a ogni problematica e quella degli anziani in un paese come l'Italia dove la media d'età sta crescendo molto è un problema vero, è un problema che va affrontato, cioè non è un qualcosa di difficile, però gli anziani hanno bisogno di avere le nuove generazioni vicine. Noi, che è una nuova generazione, lo siamo, infatti non è un caso, il nostro club si chiama New Century, è importante che sia vicino a tutti ed anche agli anziani. Prima collaborazione tra le istituzioni e i due Lions di Ostuni. Mi fa piacere che l'unione delle due associazioni Lions si sia coniugata in una serata per gente che soffre di una certa anzianità, parliamo di Alzheimer e col film proiettato Noi ci proviamo è un po' l'essenza di una frase. Noi ci dobbiamo sempre provare a stare insieme a chi soffre, a stare insieme a chi ha bisogno di aiuto, da chi è più forte, più in salute. La mia amministrazione dal primo momento è sempre stata sensibile ai problemi sociali, non ne scuso nemmeno l'avere individuata nella professionalità della dottoressa psicologa Mirella Dattoma un ottimo assessore ai servizi sociali. La sua presenza è qui assieme al saluto che ho portato io dall'amministrazione e stanno a testimoniare la sensibilità verso chi soffre, chi ha bisogno di aiuto e quindi sempre la mia amministrazione terrà in conto ai primi posti delle proprie problematiche i problemi sociali. Remo Attanasio, lo sceneggiatore, l'ideatore del film che questa sera abbiamo visto qui dedicato a tutti gli anziani presenti, un argomento importante, un argomento scottante, però abbiamo visto durante la proiezione di questo film che i vecchi, la gente un po' più anziana, riesce addirittura a risolvere quello che i giovani non riescono. I vecchi che devono, con la loro esperienza, cercare di dare ai giovani quello che possono... Il titolo del film Noi ci proviamo era appunto pure un doppio significato, anche quello di dire ai giovani di non fermarsi davanti a nulla perché anche la realizzazione di questo film sembrava una cosa impossibile, però ce l'abbiamo fatta e quindi bisogna provare tutto nella vita. Ci avete provato, adesso secondo me ci state prendendo gusto, ci riprovate? Sì, ci vorremmo riprovare, fare il secondo è sempre più difficile, quindi stiamo valutando alcune sceneggiature, vedremo, probabilmente in ottobre iniziamo almeno qualche cosa e speriamo di avere lo stesso riscontro di questo. Qualche anticipazione piccola piccola sul genere, questa volta avete parlato degli anziani, nel prossimo film invece? No, una storia ambientata nel centro storico di Ostuni, noi abbiamo un centro storico meraviglioso e se riusciamo a sfruttarlo bene stavamo pensando di ambientarlo nel Settecento, quindi con costumi d'epoca, con carrozze, cavalli, cioè movimentarlo in una certa maniera. Speriamo di riuscirci, è un impegno troppo grosso, però visto che col primo ce l'abbiamo fatta, può darsi che ci riproviamo. Un romanzo, una commedia o una parodia? Diciamo una commedia, una commedia più parodia, commedia parodia, un po' demenziale, un po' ironica, un po' comica.